Mi chiamo Christine Maria Rapino e mi piace definirmi ancor prima che una scrittrice, una persona che ama raccontare storie ed è una passione che ho avuto fin dalla mia infanzia, mi piaceva proprio tanto raccontare e scrivere temi e questo mi ha portato alla partecipazione di diversi concorsi, anche molto importanti. Sicuramente una delle esperienze che mi piace segnalare è quella di Masterpiece di Rai 3 e precedentemente ho vinto la sezione Abruzzo della Giara e ancor prima Tramate con noi di Radio Rai. Ho partecipato anche al premio per scrittori emergenti Sandor Marai con In Giuria, uno degli scrittori che amo, che è Maurizio De Giovanni. Ho appena terminato il mio ultimo romanzo che ha un tenore ben diverso, è un un romanzo dalle tinte più noir, profondamente abruzzese, che sta partecipando al premio Calvino. La mia scrittura è stata definita da Maurizio De Giovanni la scrittura dei Cinque Sensi ed è una cosa che mi illusinga molto. Quello che cerco di fare è sempre prendere la temperatura della scena, analizzarla anche dal punto di vista cinematografico, come se fosse una sceneggiatura e cerco di catturare il dettaglio anche a livello emotivo delle sensazioni, anche a livello plastico. Una cosa alla quale tengo moltissimo è, anche se il contesto può non essere realistico, l'importante è veicolare la verità. Io parto sempre da una fase di verità, che è l'onestà principale da garantire al lettore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.